ragazzi iscrizione gratis al canale iscrizione gratis siamo vicini agli otto mila l'ultimo sforzo fate iscrivere i vostri amici eh inoltrate il link del canale di chiesonirati nei vostri gruppi whatsapp telegram fate iscrivere i vostri amici interisti diteglielo è gratis non ti chiama il telemarketing non arrivano fatture da pagare non si chiede donazioni non si chiede nulla questo è un canale gratis di libero accesso a tutti iscrizione al canale confido in voi perché dipende da me ma dipende tanto anche da voi cosa ti avevo detto io dove volevi andare dove volevi andare a Rozzano a Farichè a Rozzano che ci fai a Rozzano il piano del sindaco di Milano Giuseppe Sala per tenere l'intera San Siro il piano e cosa pensano il viale della liberazione in titola c'è un articolo che vi metterò il link Sala vuole tenere l'intera San Sino il piano del sindaco e poi dopo c'è sono tutte le varie impressioni dell'inter io continuo io non sono un insider io non faccio edizioni straordinarie l'unica cosa vi posso confermare che l'inter sarà acquisita dai sauditi ci sono loro a capo dell'operazione sono loro i maggiori investitori con aziende mena prestanomi quello poi lo vedremo ma sono i sauditi a prendere l'inter questo ve lo posso garantire come vi posso garantire da un anno e ve lo dico lo testimoniano i video che l'inter farà di tutto per rimanere a San Siro ovviamente nei limiti perché se gli mettono i bastoni tra le ruote anche l'inter è costretta a guardarsi intorno ma l'obiettivo principale dell'inter è quello di rimanere a San Siro e quello di Sala idem e stamattina finalmente viene fuori la verità che Sala vuole tenere l'intera San Siro ieri ho spiegato perché nel video di ieri sera perché per Sala è meglio avere un interlocutore solo le ragioni le motivazioni sono molteplici e quindi l'inter vuole rimanere a San Siro Sala vuole l'intera San Siro alla fine è un matrimonio e secondo me è molto probabile che si faccia attenzione non lo so dove è il cinese è inutile tu me lo chieda Giuse dove è il cinese non lo so io ti posso dire che se non lo vedo per me è meglio va bene vuoi ti dire questo te lo dico non ho problemi non lo so dove è il cinese non lo so non riprendo io gli arti i video di gobbi che si mettono l'olio nel capo che si pettina con l'olio d'oliva quello lì che ha detto è zangue non lo so dove è il cinese ragazzi 87 mila messaggi lo sapete io rispondo sempre a tutti mi diverto con voi mi piace interagire mi piace parlare di calcio ma io non lo so dove è il cinese lo dovete chiedere chiedetelo al liter dove è il cinese non lo so io dove è il cinese io ti posso dire dove volevi andare con il cinese quello te lo posso dire ma dov'è non lo so ragazzi se è in campeggio o in mare non lo so dove non lo so oltre a Ticus Turam che è un mio pupillo ormai lo sanno tutti ora è facile è grande Turam top player eh prima non era buono era troppo alto non faceva gol eh ora cinque assist tre gol due gol annullati per fuori giochi millimetrici Ticus è un top player ma io voglio anche Franco Turam mi comincerò da ora a rompere i ognoni io voglio che Fren Turam all'inter Franco Turam portatemi che Fren Turam c'è un altro giocatore no? Di cui io parlavo da prima che entrasse in ormita Inter giocatore che maicini ha provato in tutti i modi a portare in nazionale perché ha doppio passaporto ed è Carlos Augusto dall'altro gli hanno fatto un'intervista gli hanno detto Carlos ma secondo te chi è l'esterno sinistra più forte al mondo? Lui ha detto Di Marco non penso l'abbia fatto per leccare no? Per spennellare cioè l'ha detto perché secondo me Di Marco ragazzi cioè ce l'ha delle stigmate di Roberto Carlos parliamoci sinceramente c'ha un sinistro magico il ragazzo lì ma al Monza Carlos era il fulcro del gioco si vede infatti Monza senza di lui ha perso un trenta quaranta per cento di potenzialità di efficacia no? Ma ragazzi Carlos Augusto è un grandissimo giocatore ed ancora non è quello di Monza stai attento lui è al sessanta settanta per cento perché Carlos Augusto ancora non è quello di Monza avrebbe bisogno di giocare di più secondo me ma lui entrerà di più nelle grazie dell'allenatore perché è un ragazzo umile che si allena che fa vita la professionista ed è un ragazzo che può giocare in due ruoli è veloce è forte tecnicamente ed è forte sull'uomo ma i benefici dell'Inter ad avere un giocatore o sì quali sono? sono che te a sinistra hai due giocatori propositivi di Marco e Carlos e puoi attaccare e offendere per novanta minuti e lo possono fare pochissime squadre credimi attaccare per novanta minuti attaccare e offendere attaccare offendere attaccare offendere quindi si esce di Marco per esempio c'è in campo di Marco che di Marco lo sappiamo il suo meglio lo danno i primi sessanta sessantacinque minuti esce di Marco entra Carlos Augusto e continua il moto perpetuo continua oppure con di Marco in panchina puoi scegliere di fare staffetta togli di Marco e metti lui oppure li puoi usare tutti e due cioè oppure li puoi tenere oppure se gioca uno puoi mettere l'altro che è in panchina per recuperare il risultato cioè ragazzi è una grande cosa avere due esterni come Carlos e come di Marco altro che il Gosens io ve lo dicevo il Gosens non andava preso anche quella fu un'altra mia battaglia offese Fischi Giuse lo lo dissi prima non lasciamolo all'Atalanta e voi lo sapete anche lì Giuse ma che dici lasciamolo all'Atalanta quello lì quando sulla sinistra il migliore anno di Danfris qual è stato? Il migliore anno di Danfris è stato l'ultimo anno di Perisic perché? Perché Perisic con quei movimenti faceva tirare fuori tutti i cavalli di Danfris ovvero sia la progressione e il tagliare il campo verso il centro e gli fece fare quei cinque sei gol proprio per i movimenti che fa Danfris perché l'olandese quando corre e taglia il campo centralmente diventa un treno in corsa non lo fermi non lo fermi Danfris perché è un metro e novanta e va a cento allora per lui avere due esterni sinistri in quella maniera una manna dal cielo lui ne trae gli stessi benefici di quando c'erano Perisic perché quei due esterni gli permettono a Danfris di fare quei movimenti e faceva con Perisic quindi grazie a loro due e a Turam e a Turam che ha capito che va lanciato in corsa ma vedo che lo stanno capendo molti giocatori dopo Turam perché Danfris lo devi lanciare in corsa non puoi pretendere ti salti tre uomini nello stretto come il cancelo nemmeno a Kimi perché anche a Kimi è uno è stato l'uomo in corsa cancelo e grazie a Turam che ha capito che va lanciato in corsa Danfris quest'anno sta offrendo delle prestazioni di livello alto poi è normale non possono non può fare dieci partite al top tutti i giocatori cioè una partita all'ottanta una al settanta una sessantotto però ragazzi Danfris con quei due esterni con Turam e anche altri hanno capito che va lanciato in profondità e sta attraendo dei grossi benefici con questo vi saluto fate iscrivere i vostri amici al canale ci conto ci becchiamo dopo ciao inter ciao ciao Grazie a tutti.